Igor Gelarda, lei ha deciso di scendere in campo qui all'Europeo, numero 2 dopo il leader Salvini, cosa l'ha spinta a fare questa scelta? Innanzitutto io ho solo accettato la proposta che mi è stata fatta dai vertici nazionali e sono sceso con orgoglio e anche con grande energia per questa competizione. Sono il numero 2 nel senso che dopo Candiani sono il responsabile regionale degli enti locali e credo che la Lega può fare e farà molto per la Sicilia anche in Europa. Quindi sono convinto che dobbiamo mandare dei leoni in Europa per difendere la Sicilia e ribaltare questi trattati che in Europa ci penalizzano. La Sicilia ha tante emergenze tra cui in primo punto io metterei le strade e poi una grande disoccupazione giovanile, in questo senso sono due grandissimi problemi, come l'Europa potrà aiutarci? La Sicilia è la capitale europea della disoccupazione giovanile con picchi che superano anche il 70%, le strade lo sapete tutto, siamo altro che terzo mondo. In Europa, ponendo al centro un piano di mobilità per la Sicilia in Europa, io credo che molto si può fare. Per quanto riguarda il lavoro dobbiamo sfruttare meglio tutti quelli che sono i finanziamenti europei, perché non con dei finanziamenti dati a pioggia senza progettualità, ma con delle idee che servano per creare start-up e impresa possiamo migliorare questa situazione della gravissima disoccupazione nella nostra terra. Una battuta sul governo nazionale, questo botte in risposta in continuazione su tematiche importanti tra Lega e 5 Stelle, coglierete l'appello di Berlusconi e Lameloni dopo magari il successo europeo che si prevede di andare a un nuovo voto? Il governo è solido, è chiaro che ci sono delle divergenze di vedute ed è chiaro che in questo momento c'è una certa sofferenza da parte del Movimento 5 Stelle al suo interno. Spero che si risolva presto e che si possa continuare su questo governo del buon senso che sta facendo tanto bene agli italiani. Non posso non farle da giornalista una domanda sul caso Siri che tanto sta animando attualmente il dibattito politico. E io non posso che rispondere che abbiamo piena fiducia nella magistratura.